Una piccola percentuale di podisti della quale io non faccio parte ritiene che queste Nike Invincible Run 2 siano davvero instabili e di conseguenza non possano essere utilizzate dai podisti amatori per correre tutte le distanze a tutte le velocità. Dal mio punto di vista rispetto ovviamente tutte le scelte dei podisti amatori anche perché oramai siamo diventati il correre su YouTube ma secondo me questa scarpa, le Invincible Run 2 di Nike rappresenta una scelta fantastica per tutti coloro i quali volessero correre a tutte le distanze a tutti i ritmi in particolare per tutti coloro i quali avessero avuto degli infortuni e per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di drop 9 300 grammi nella taglia US 9 39 mm nel tallone 30 mm nell'avampiede chiaramente oramai Nike non riporta più tutte le informazioni tecniche però penso che confrontandole con altri modelli queste siano le specifiche corrette. Non l'ho detto al mio caro amico e prodepodista Andrea ma ne ho preso pure io un modello cosa che contraddice ovviamente le regole del canale questo vuol dire che ci sarà una recensione in meno qui sul canale sotto ovviamente buy me a coffee nel caso in cui volesse supportarci ho apprezzato il fatto che ci sia uno spazio nell'avampiede che la tomaia sia comunque pensata non soltanto per l'estate forse non è così traspirante come invece vorremmo che fosse durante questo periodo ma invece può essere utilizzata per tutti i lunghi soprattutto in previsione della maratona ho apprezzato anche la quantità infinita di zoom x non credo che ne sia stata aggiunta rispetto alla versione precedente lo spazio del tallone è incredibile cosa che rende questa scarpa più stabile di quello che invece i podisti amatori potessero pensare proprio per questa ragione migliorata pure la conchiglia che effettivamente era leggermente instabile ed era forse l'unico punto debole della scarpa stessa il battistrada è rimasto sostanzialmente lo stesso e andrea soffentini ci ha già corso incredibile in pochi giorni più di 200 chilometri io la utilizzerò nei prossimi giorni perché comunque il mio problema alla caviglia non è ancora ovviamente risolto completamente come da promessa di due settimane fa e qualcuno mi ha già scritto quando uscirà la recensione completa l'ho incontrato dal mio giardino di casa sentiamo cosa ci ha raccontato voi nel frattempo stay strong keep running iscrivetevi al canale anche perché nei prossimi giorni ci saranno ancora recensioni complete di scarpe consiglio questa scarpa a tutti colori quali volessero evitare gli infortuni e non avessero la necessità di correre a un ritmo eccessivo sarebbe anche interessante che vi iscriveste al canale di andrea perché qui ci sono vecchi ricordi e in quel canale raccontiamo quando uscirà la nuova versione di questo modello che fondamentalmente era bellissimo ma ora è passato di moda ciao alla prossima andrea siamo finalmente giunti alla recensione completa delle invincible run 2 cosa ne pensi di questa scarpa ma prima di tutto stai bene ma toccando ferro sto bene per ora ciao a tutti ma cosa ne penso te lo dico dopo perché se no finiamo la recensione adesso ma intanto te la tiro sei pronto sì ma così sembra cattivo lanciano dal basso devo stare attento vai una ti lancio anche un invisible 1 eh ho due sinistri mi hai dato vabbè ti ho dato quello che è capitato cosa ne pensi di questa scarpa allora le sto guardando adesso ce l'avevo in casa te l'ho portata adesso le sto guardando e sto guardando che la schiuma è praticamente intatta anche sulla invincible 1 mi sembrano morbido uguali anche dopo quanti anni ha ormai la invisible 1 o un anno e mezzo si si stra usata per correre stra usata per camminare praticamente adesso ho presionato l'ho portata l'altra volta al concerto che ho detto almeno sto comodo è stata una scarpa super super supera credo che si sia capito che forse è stata la mia migliore scarpa da lento il nuovo modello è cambiato ben poco e ne siamo contenti a vederla così è cambiato sia un pochino il collarino qua dietro di plastica che è stato un pochino più alzato ma che non ho sentito o forse sì perché mi sembrano comunque più stabili e hanno cambiato un pochino il comunque in generale la conchiglia dietro che è diventato un pochino più dura e più stabile in generale tutta la tomaia è stata rinforzata a chi sono adatte secondo te queste scarte e le limiteresti tra virgolette soltanto a chi pesa meno di 75 kg no assolutamente questa è una scarpa che va bene per tutti per tutti i pesi perché ecco qua forse con la storia dell'ammortizzatore della macchina non c'entra sono strammortizzate per chi pesa tanto e sono comunque ottime e per chi per chi pesa poco quindi davvero una scarpa per tutti non so come dirti è anche super reattiva io la utilizzo per fare i lenti ma volendo per fare dei lavoretti va benissimo invece a livello di ritmi per quali ritmi le suggeriresti ovviamente fino a un certo ritmo ma a partire da che ritmo andando lenti potrei andare anche a 7 al chilometro 10 al chilometro per quello non c'è problema ti ripeto sia per camminare che percorre sono perfette sotto difficile dirlo per dire io avevo provato anche a correre finito lungo a 3 20 senza problemi ti posso dare un'idea per i lavori che si può usare quindi al medio si possono usare tranquillamente anche per uno che fa al medio a 330 sono scarpe che invece per tipo le varie acce di ritmo vanno benissimo l'unica l'unica cosa è che quando si corre un po in pista ti cacci dentro i piedi anche se con il nuovo modello un po molto di meno rispetto al primo però comunque la scarpa abbastanza ingombrante per quali distanze le suggeriresti e soprattutto le porteresti a fare gli allenamenti lunghi per la maratona assolutamente una scarpa a scaccia infortuni quindi assolutamente in preparazione maratona è fondamentale perché ci permette di correre tanto e per tanti per tanti chilometri per tanto tempo salvandoci dai doloretti alla stanchezza muscolare invece una domanda molto interessante parlando della scarpa stessa lo spazio nell'avampiede è importante ma suggeriresti lo stesso numero o mezzo numero in più rispetto agli altri modelli nike perché a me hanno chiesto in 15 che numero suggeriresti sto usando lo stesso numero il solito di nike mi sto trovando bene conta che il modello prima in quanto era poco disponibile l'avevo preso ce l'avevano dato da 28 centimetri invece 27 e mezzo non so se era per quel motivo lì che mi toccavo dentro un po i piedi le caviglie però con il mio solito numero nike mi sono trovato benissimo quindi sicuramente stesso numero io sono per lo stesso numero e rispetto alle pegasus rispetto alle pegasus stesso numero no giusto per precisare perché comunque sembra che non siamo chiari ci può anche stare invece andrea a livello di tomaia come l'hai vista e cosa ne pensi e te l'ho detto la tomaia secondo me è migliorata sicuramente è un po più più duretta che rende la scarpa comunque più stabile in generale e ti ripeto anche la zona della conchiglia è diventata più dura guarda la vecchia cioè questa è la nuova conchiglia che faccio fatica a schiacciare invece questa qua con la vecchia è molto più più morbida e credo che questo era il motivo per cui la scarpa era instabile e invece adesso è diventata super stabile a livello di intersuola zoom x cosa ne pensi e secondo te qual è il grado di ammortizzazione che questa scarpa offre una delle migliori se non la migliore mescola sul mercato cosa vuoi cosa vuoi di più dalla vita quando diciamo metti più schiuma che poi la scarpa qua ce n'è in abbondanza direi che sono felicissimo una mescola davvero così morbida quando ha dolori muscolari o mi voglio preservare esco sempre con queste qua che mi fanno riposare invece andrea ho preso in mano una vecchia conoscenza quindi le pegasus turbo 35 quindi relative uscite assieme al modello pegasus normale 35 te le tiro e ti voglio chiedere secondo te ancora senso oggi avere una doppia mescola react e zoom x nella scarpa te la tiro però te me le lanci apposta male comunque la stavamo tocchiando prima era la mia domanda era ma lo zoom x era davvero così duro ai tempi e che sembrava comunque morbido si è indurito comunque la doppia mescola non ha senso se hai la miglior mescola del mercato meglio usare solamente lei e non utilizzare nient'altro si poi è chiaro che qualcuno il puntualizzatore direbbe che le react più stabile eccetera eccetera però va beh sono sono assolutamente d'accordo con te a livello di battistrada invece come l'hai vista battistrada lo riguardo ma mi sembra identico quello quello che c'era prima si l'avevo abbastanza masarato beh conto che queste qua davvero hanno 800 chilometri di corsa e non so quanti di camminata indi per cui direi che che posso ritenermi soddisfatto vedo che che si stanno già usurando sulla parte esterna del tallone è un po' nell'avampiede ma normale utilizzo conta che adesso hanno 230 chilometri a livello di stabilità come l'hai vista e appunto la consiglieresti anche a colori quali avessero qualche problema problema tra virgolette di pronazione guarda la stabilità era il suo tallone da killer la città devo dire che è stato migliorato nettamente devo dire che quando si fa le curve sono nettamente più stabili prima un po bar collante bar collo ma non mollo devo dire che questo problema è stato migliorato indi per cui un pronatore severo ma che pesa poco secondo me le può usare tranquillamente sono un po in dubbio su un pronatore severo che pesa 90 kg però c'è lì forse ci vorrebbe una scarpa un po più dura che casa nike per di più non ha una structure ma non so neanche più se le fanno e se si sono in giro ma erano davvero durissime l'inserto antipronazione di nike non mi ha mai fatto impazzire troppo un nostro fan accanito che ci chiede recensite queste structure che sono comunque scarpe eccezionali secondo lui dovremmo farlo magari se arrivano altri coffee potremmo anche farlo il problema davvero structure structure come cavolo si chiamano loro che davvero l'inserto antipronazione della nike è terribile durissimo e anche la mescola in quella zona lì era duro magari sono migliorate però porca eva facevo davvero fatica vi chiamava l'arco plantare invece andrea a livello di durata cosa ne pensi sembra che durino a lungo io ti ripeto ho già un po più a lato l'esterno del tallone ma credo cioè la scarpa durerà davvero tantissimo e io l'avevo portata a 800 ma anche per la mescola che è secondo me anche mille chilometri li fa anche ripeto la battistrada che si usura così tiene lo stesso nessun problema e secondo te ultima domanda quali sono i pregi e i difetti di questa invincible run 2 pregi è che va a migliorare una scarpa pressoché già top nel mercato io ho detto che la invincible 1 aveva rotto il mercato perché non c'era una scarpa meglio di questa per fare i lenti credo di aver sentito una o due persone che si lamentavano della invincible tutto il resto l'hanno amata la 2 va a migliorare con la scarpa lì in stabilità sicuramente quindi diciamo il grosso problema è andato a migliorare l'unico difettino che trovo ancora per non dargli dieci elode è un pochino qua sul collo del piede che nelle prime uscite mi sono dovuto fermare per per risistemare un attimo la linguetta perché mi dà un po di problemi al dorso del piede niente di che adesso non mi sta più succedendo qualcuno si lamentava del dei lacci che si slacciavano allora io faccio sempre il doppio nodo e non mi sei mai slacciato nelle ultime uscite ho fatto opposto un solo nodo e non mi sono mai slacciato quindi davvero credo che ora un modello di lacci sbagliato non lo so perché o a meno che mi sta venendo il grosso dubbio che che nike abbia fatto come cos'era le pegasus 34 che avevano fatto dei lacci buoni su dei modelli su degli altri invece un pochino più di nylon che si slacciavano facilmente mi ricordo che aveva la 34 quella nera e rossa che si slacciava ogni volta invece andrea ultima domanda davvero ultima domanda quando testeremo ulteriori scarpe naika sapendo che sono uscite le alfa fly 2 sapendo che sono uscite le zoom fly 5 che tra l'altro è confermato al 300 per cento al posto del react hanno messo finalmente lo zoom x quando faremo questi test guarda l'alfa fly l'ho vista molto bene poi ti ripeto dopo che l'avevamo usata le prime volte non mi aveva fatto impazzire adesso stavo quasi cento allenando perché mi dispiaceva portare la fine vita e ho visto il modello nuovo secondo me hanno fatto un buon lavoro e secondo me sono andati a parare su qualche problemino che aveva la prima quindi chissà che scarpona che è diventata la cosa dello zoom x sulla zoom fly secondo me sarà un'ottima cosa almeno da da testare quindi voglio vogliamo testare la poi vediamo come sarà va bene andiamo a berci un coffee è bello che quando fai video normale lo dici piano invece quando fai il rile vai velocissimo il rilea i shorts va bene ciao